sto aprendo la bottiglia di vino ok non mi spottete sicuramente farò 3000 sbagli non è un tutorial di come si apre la bottiglia perché poi ovviamente quando uno si sente osservato no ma tanti di quegli sbagli che magari a casa non fa che magari a casa la capsula la toglie per bene a proposito a proposito si pulisce un pochettino qua sopra dopo aver tolto la capsula la capsula è questa vedete quella che sta sul vino questa capsula c'ha due forellini ovviamente perché è tutta una questione di respirazione del vino dato che da questi due forellini sulla capsula può darsi che è entrato un po di polvere dopo che si è tolta mi raccomando pulitela e da qui vedete questo che cos'è questo vedete è il verme è il verme del cavatappi si inserisce giusto al centro qua della bottiglia cioè del tappo di sughero ok non vi scordate mi raccomando mettetelo bello al centro eh mi raccomando non sbagliate ok l'ho messo bene al centro si gira allora il cavatappi c'ha due due levette una più in alto e una più sotto si comincia da quella più in alto si preme poi si alza contemporaneamente quest'altra leva qua poi si passa al secondo alla seconda si fa piano piano almeno io faccio piano 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 si fa una rotazione così molto molto leggera molto leggera se non ce la fate prendete il tovagliolo non sia mai marron to cut o tap con le mani non esiste proprio ok fate così piano piano una rotazione pluff portate al naso perfetto il vino non sa di tappo è buono poi si prende sempre con il tovaglioli non sia mai si gira penso che si faccia così poi non so si mette in un apposito piattino e si dà al cliente ok ce l'ho fatto pure io